Ciao a tutti! Due cose che un uomo deve sentire per avvicinarsi. In questo video voglio spiegarti quali sono le cose che un uomo deve percepire, deve sentire per avvicinarsi ad una donna, per non avere paura di avvicinarsi a una donna. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordi inoltre che se tu vuoi delle risposte precise alle tue domande puoi abbonarti al canale. Ad una cifra simbolica abbonandoti potrai avere delle risposte precise alle tue domande. E veniamo al tema. Due cose che un uomo deve sentire per avvicinarsi a una donna. Allora ovviamente ci possono essere degli ostacoli tra un uomo e una donna, degli impedimenti che fanno sì che un uomo magari non si avvicini o non si avvicini più di tanto, soprattutto non si avvicini da un punto di vista più profondo, perché magari l'avvicinamento fisico è un avvicinamento che se c'è un'attrazione fisica si manifesta, ma un conto è l'avvicinamento fisico, un conto è l'avvicinamento completo, l'avvicinamento totale, il coinvolgimento a 360 gradi. Ora quali sono le cose che un uomo deve sentire, percepire dentro di sé per non avere ostacoli, per non avere blocchi, per non avere vincoli ad avvicinarsi a una donna? Allora la prima cosa che un uomo deve sentire è diciamo che non esistono dei vincoli, dei vincoli, cioè non deve sentirsi vincolato, deve sentirsi libero. Libero cosa significa? Significa che non deve sentirsi in trappola. Molti uomini hanno paura, temono di avvicinarsi a una donna perché temono di cadere in una trappola, temono che quello che la donna gli offre è una sorta di formaggio, ma formaggio di una trappola per topi e loro rischiano di sentirsi il topo e quindi evitano di avvicinarsi, proprio per non correre rischi. Questo si manifesta quando ad esempio percepiscono che una donna è bisognosa di avere una relazione sentimentale affettiva e allora nel momento in cui un uomo non si sente libero, non si avvicinerà a una donna, cioè non si sente libero di esprimersi senza dover prendere degli impegni fondamentalmente. Ecco questo è il primo punto fondamentale, questa è la prima cosa che blocca un uomo dall'avvicinarsi a una donna, il non sentirsi libero e quindi un uomo deve sentirsi libero di potersi avvicinare, di poter interagire senza dover prendere degli impegni. Infatti alcune donne che vengono a causa del loro comportamento, che poi magari non è neanche detto che sia così, ma che vengono a causa del loro comportamento ritenute impegnative, fanno sì che gli uomini non si avvicinino. O comunque se si avvicinano lo fanno per un tempo molto breve, magari soltanto da un punto di vista sessuale, poi si allontanano subito, scappano subito, con una scusa o l'altra iniziano a fuggire. Questo perché capita? Ripeto, capita perché una delle cose che deve avere un uomo per, una delle cose che deve sentire profondamente un uomo per avvicinarsi a una donna è un senso di libertà, cioè il fatto di avvicinarsi, di corteggiarla, di iniziare a vederla, a frequentarla, non deve percepirlo come se fai questo, poi dovrai sposarmi, dovrai fidanzarti, dovrai convivere, dovrai avere una relazione stabile con me. Ecco, questo un uomo non lo, non deve percepirlo, perché se tu donna, gli fai percepire questo, e molte donne lo fanno, perché il loro bisogno di avere una relazione viene trasferito in modo, viene trasferito in modo globale, purtroppo viene trasferito in modo globale, quindi gli uomini tendono a spaventarsi di questo, tendono a spaventarsi per mille motivi, ma il motivo fondamentale è che dicono, cioè, se faccio questo, poi magari lei ha bisogno di questo, allora preferiscono anche rinunciare ad avere una relazione trasgressiva, alcuni, altri magari non rinunciano ad avere una relazione trasgressiva, ma questo comporta però che poi una volta che hanno ottenuto lo scopo, lo scopo appunto, scappano, se ne vanno, oppure nella maggior parte dei casi non si avvicinano neanche, o si avvicinano in modo molto marcato, quindi molto, diciamo, limitato. Quindi quello che deve fare una donna, da questo punto di vista, è capire che il farsi vedere come impegnativa non è un qualcosa di positivo per lei, perché non è che fa un setaccio, lei dovrebbe, una donna, una vera seduttrice, una donna che sa poi far impegnare gli uomini, è una che inizialmente sembra, come dire, non voler metterti dei vincoli logici, se mai ti mette dei vincoli analogici, ti dà indisponibilità. Quindi nel momento in cui tu percepisci, sei attratto, ma percepisci indisponibilità e percepisci che da l'altra parte c'è una persona libera, una persona che si può allontanare, una persona che ha tanti grotteggiatori. Quindi verrà a te la voglia poi al maschio, verrà la voglia di impegnarsi per cercare di trattenerla. E questo è la vera arte della seduzione. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è, diciamo, quello che deve sentire un uomo per avvicinarsi a una donna è sentire che questa donna valorizza quello che lui ama e quello che è senza giudicare o senza denigrare. Perché purtroppo anche qua nella seduzione bisogna capire che per sedurre, per coinvolgere, bisogna prima entrare nel mondo dell'altro, cercare di capire il mondo dell'altro e cercare di accettarlo. Se tu hai a che fare con un uomo, devi cercare di capire quali sono le sue passioni. Se la sua passione è, adesso faccio l'esempio classico, il calcio, tu non puoi, diciamo, squalificare completamente il calcio. Perché sì, magari continuerà a vederti, però se tu dici, ah, che schifo il calcio, quelli che vanno a vedere il calcio, quelli che vanno a vedere, vanno allo stadio, io non li sopporto, sono ignoranti, insomma, e cose di questo genere, beh, cioè non valorizzi quello che questa persona ama e quindi, come dire, manterrà sempre delle riserve, manterrà sempre dell'indifferenza, manterrà sempre, come dire, una diffidenza nei tuoi confronti. Non devi neanche, diciamo, se a te il calcio non piace, per dire, fare delle cose che dire, ah, voglio andare la domenica a vedere le partite. No, però non puoi denigrare, non puoi denigrare e puoi semplicemente dire, beh, io non seguo il calcio, come molte donne, ma non è un problema se sto con un uomo che va a vedersi la partita la domenica, per dire, no? Quindi, ma neanche accettare di fare delle cose che non ti piacciono. Però questo è un qualcosa che, diciamo, spesso blocca gli uomini. Quando hanno, pensano, percepiscono di avere a che fare con una donna che squalifica quello che loro amano. Se non hanno già, se lei non ha già acquisito un buon potenziale, difficilmente potranno avvicinarsi con l'idea già di portare avanti una relazione. Sì, potranno avvicinarsi anche in questo caso per attrazione sessuale, per attrazione fisica, ma nel loro cervello non scatterà mai quel meccanismo, mi avvicino perché voglio costruire qualche cosa con questa donna. Ecco, quindi questi sono i due punti fondamentali, diciamo, per far sì che un uomo si avvicini, dargli la sensazione che sarà libero tranquillamente di avvicinarsi senza creare nessuna aspettativa e avere a che fare con una donna che comunque valorizzo, perlomeno non squalifica quello che lui ama. Ecco, questo spinge un uomo ad avvicinarsi. Lascia nei commenti quello che pensi, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video e se vuoi una risposta precisa alle tue domande basta che ti abboni al canale. Ciao a tutti!